ogni circostanza ha la sua propria guardia. Stasera vedremo se il nostro aggressore è armato e stasera in particolare vedremo se ha un'arma da taglio. Ora dovremo escludere chiaramente il professionista, è chiaro che se mi aggredisce il macellaio o la cintura nera di Cali Filippino, quello è armato eppure esperto ma che gli faccio se fossi capace a difendermi da uno armato e anche esperto starei su Marte. Per fortuna nella maggior parte dei casi il mio aggressore è qualcuno che se mi viene a dare delle coltellate non è un esperto di agenti segreti dei film di fantascienza ma è una persona che sta facendo quel gesto perché non è in sé, è arrabbiato, perché anche l'aggressore a meno che stai a Caracas magari prima ti dice quello che vuole, prima di accoltellarti. Allora dobbiamo tenere per scontato se andiamo a studiare i casi di aggressione col coltello che se non te ne puoi andare, è chiaro che se te ne puoi andare te ne vai, l'errore che dobbiamo evitare di fare è intercettare l'arma, cioè andare sulla lama. Le persone che vanno all'ospedale per aver preso qualche coltellata, che molto spesso sono nella pancia perché poi gli esperti diranno ti taglia la gola, ma il principiante che è arrabbiato col coltello ti viene a dare un colpo, non è che ti taglia la braghiale o ti taglia magari la giugolare, non è che sta così, ma non c'è l'esperto, anche perché sei l'esperto tanto sei morto, ok? Le coltellate vengono date di punta per la strada, non i taglietti, ok? Ecco in una circostanza del genere io rischio di essere bucato e quindi ok se vado a casa a qualche punto ho comunque vinto contro uno col coltello, magari vado a casa solo a qualche punto, io rischio di morire. Ecco in una circostanza come quella non devo andare a prendere la lama anche perché si muove molto veloce, ok? Ma devo andare ad intercettare il braccio perché intercettare un arto così lungo, un oggetto così lungo è più facile che intercettarne uno così corto, ok? Intercettare questo oggetto qui è più facile che intercettare un oggetto così. Chi ha fatto un po' di scherma per esempio saprà bene che tu vai a intercettare la lama, poi la zona, adesso non tremo nel particolare, ok? Quindi intercettare come si intercetta una lama è la cosa migliore, pensando che la lama sia tutto il braccio del nostro aggressore. E stasera faremo un po' di esercizio, c'è chi già l'ha provato diverse volte prima dell'estate, chi lo proverà la prima volta, faremo degli esercizi di base. Di certo, vieni un attimo qua per favore Lorenzo, di certo tutte le difese, mima che mi sta dando una coltellata, tutte le difese del genere, articolate eccetera, non possono funzionare o a meno funzionano se io sono iperallenato e lui è uno ubriaco col coltello. Quindi attenzione che non devo, vieni, non devo andare ad afferrare ma devo pensare che questa è tutta la mia spada e devo pensare a intercettare il braccio, non afferrare la lama, perché questa si muoverà molto velocemente, ma dovunque si muove questa lama, muoverla come ti pare, io così la intercetto, come stessi facendo con una spada. Se qualcuno di voi ha fatto scherma sa di che cosa parlo. Nel momento in cui ho intercettato, devo chiudere la distanza prima possibile. È chiaro che se posso scappare, ma se potevo scappare già sarei scappato. Nel momento in cui sono a contatto, devo chiudere la distanza più velocemente possibile. Ok? In questo caso, quindi mantengo il contatto, entro e afferro e porto giù. Se l'avessi intercettato, che lui era al mio interno, comunque anche andavo a prendere. L'ideale è prendere con una, meglio con due, mani, il braccio interessato. Fra poco vedremo come. Per adesso l'idea è intercetto col mio braccio steso come fosse una spada, il suo attacco. Ok? Vieni al rallentatore. Fare questo, continua a dare colpi, fare questo è più difficile. Adesso è possibile perché lui sta andando al rallentatore. Continua. Fare invece questo è più facile. Come farei con la spada? È più facile. Anche se lui colpisce e richiama, vieni, se io faccio questo è più facile. Come farei con la spada? È un metodo che garantisce al 100% di non essere tagliati? Certo che no. Certo che no. Altrimenti la gente non andrebbe in giro. Col col coltello andrebbe in giro col bazooka perché tu ci riesci sempre a fermarlo. Noi l'abbiamo provato qui per davvero. E intorno al 50-60% delle volte, voi vedrete che se siete un po' allenati, riuscire. E altre volte venite tagliati o bucati. D'accordo? Ma stiamo parlando di uno col coltello aggressivo contro una mani nuda. Ok? D'accordo? Quello che di certo devo fare nel momento in cui ho intercettato è chiudere prima possibile la distanza. Non posso di certo rimanere qui una volta avuto la fortuna di intercettare. Perché si parla di fortuna. Ok? Vuoi imparare a difenderti da aggressioni e prepotenze? Sono Danilo Capuzzi, il presidente della famosa Otsuka Club. Ho lavorato nella sicurezza per ben 11 anni e sono famoso perché per strada mi sono difeso decine di volte. Vuoi imparare a farlo anche tu? Fai una prova gratis con me. Unisciti ai miei studenti. Clicca il link che trovi nei commenti.